Eccoci qua per la Easy Gone Air Web TV. Siamo alla gara di U. Praticamente questa gara è una rappresentazione tramite delle simulazioni dei diritti umani. Siamo alla prima postazione. Nella prima postazione, come possiamo vedere, c'è scritto distinzione. Praticamente in questa postazione vengono riprodotte delle immagini a un proiettore e i partecipanti alla prova devono decidere se bombardarla o meno. Quindi ci spostiamo alla prossima postazione. Come vedete ci sono un sacco di postazioni, tutto l'ambiente dell'ISIT di Gorizia è occupato. Quello che vi posso dire è che questa manifestazione è stata realizzata dalla Croce Rossa in collaborazione con lo staff tecnico dell'ISIT di Gorizia. La Croce Rossa ovviamente ha fornito tutta l'attrezzatura e anche ovviamente la conoscenza delle varie situazioni. Come possiamo vedere c'è stato un buon riscontro in quanto tutti i gruppi più o meno che abbiamo intervistato si sono divertiti. Adesso vediamo la postazione 2. Nella postazione 2 c'è una simulazione di dei profughi arrivati in Italia, degli immigrati. Come potete vedere adesso c'è la dimostrazione in atto, quindi abbiamo anche un po' di fortuna perché siamo riusciti a beccarli nel momento giusto. Adesso il gruppo sta decidendo cosa deve fare. Ossia ci sono dei vari profughi e il gruppo deve decidere dove mandare questi profughi. Può scegliere tra il sindaco, l'accoglienza dei profughi, la polizia o di rimandarli a casa. Ovviamente in base alle scelte fatte ci sarà un punteggio e in base a questo punteggio poi si deciderà chi ha vinto la gara a fine giornata. Ecco ci stiamo seguendo il gruppo Pazzesco, siamo in compagnia del capogruppo. Buongiorno, come ti chiami? Sono Salvatore Moceri, io. Che prova avete appena effettuato? Beh abbiamo appena deciso come smistare delle persone arrivate su dei gommoni. È abbastanza carina come cosa, è anche un po' difficile perché ci sono dei banchetti nei quali bisogna posizionare le persone a seconda di quello che ti raccontano e ti dicono. Molto realistico. Sì, molto realistico. Ecco, si basava sui diritti internazionali ovviamente. Sì, il consiglio della DIU, tutto basato su quello. Bene, grazie mille per il tuo tempo. Grazie a voi. Adesso ci spostiamo alla prossima postazione. Bisogna dire che l'organizzazione, anche la giornata è stata molto favorevole a questa gara. C'è stato anche un buon riscontro di ospiti in quanto molte delle classi dell'Istituto Statale di Istruzione Tecnica sono uscite dalle rispettive aule e hanno partecipato alla visione di questo evento. Come possiamo venire in distanza? C'è una dimostrazione di una prigione militare. La prigione militare ovviamente è una prigione in cui vigono le convenzioni di Ginevra. In questa postazione i partecipanti alla gara devono decidere se i prigionieri sono trattati bene e se devono essere liberati o meno. Adesso vediamo che è in atto, infatti c'è il gruppo bianco, il gruppo Bio Girls, che fa parte dell'Istituto Statale d'Annunzio. E come vedete ci sono anche gli attori che sarebbero i militari in questo caso e potete anche vedere nell'inquadratura degli spettatori. Eccoci qua, siamo con il capogruppo della squadra blu, se ti puoi presentare. Simone Candussi. Ok, voi avete partecipato alla prova della postazione 3, prigionieri, in cosa consisteva? La prova? Allora, nella prova noi eravamo i rappresentanti del Comitato Internazionale di Corce Rossa e dovevamo verificare le condizioni del prigioniero. E dovevamo, appunto, sì, vedere che il prigioniero avesse il cibo necessario, l'acqua, i vestiti, tutto il necessario per sopravvivere, che sia in condizioni umane, che sia trattato bene e non maltrattato. E alla fine di questa prova passeremo un'altra prova e... no, tutto qui. Come vi è sembrata questa prova dal punto di vista del realismo? Abbastanza realistica. I militari che sono stati... che hanno fatto la prova sono stati molto realistici. Abbiamo avuto proprio la sensazione di essere dei rappresentanti della Corce Rossa in un campo di guerra abbastanza realistico. Spostandoci più in fondo possiamo vedere come ci sia lo stand, la postazione 4, anche l'ultima postazione della gara. In questa postazione viene fatto un processo a un generale di delle forze speciali che ha ucciso un terrorista e uccidendo questo terrorista ha però ucciso anche 30 civili. Questo viola le regole dei diritti umani e quindi viene fatto appunto questo processo. Ed è proprio questo lo scopo del gruppo partecipante. Capire se i diritti internazionali dell'umanità sono violati o meno. Eccoci qua in compagnia del leader del gruppo giallo. Ti puoi presentare? Sì, sono Giulia delle Fricks. Ok Giulia, ci potresti spiegare brevemente in cosa consiste la postazione 4 di questa gara di EU? Allora, era una prova di un tribunale dove c'era l'accusa e la difesa. In pratica c'era un soldato che aveva ucciso un terrorista e in pratica sono morti anche dei civili. Noi abbiamo dato ragione all'accusa perché sono morti i civili. Poi, sì, gli abbiamo dato 10 anni di reclusione. Da una parte però aveva anche ragione perché ha ucciso il terrorista che aveva programmato di uccidere i civili. Bene, grazie per il tuo tempo Giulia. Buona fortuna per le altre prove. Grazie. Beh, ci sono altri due stand che sarebbero le due soste. La sosta sanitaria e la sosta ASA in cui viene spiegato come funziona la distribuzione degli alimenti e delle varie risorse e la distribuzione del primo soccorso. Infatti c'è anche un'ambulanza. Ciao ragazzi, sono Linda e sono la responsabile della componente giovanile della Croce Rossa qui di Gorizia. Qua abbiamo lo stand dell'ASA, ossia delle attività socioassistenziali che facciamo nel nostro comitato. Come potete vedere abbiamo la distribuzione viveri che va dall'igiene di prima necessità alla distribuzione vera e propria degli alimenti che avviene due volte ogni due mesi. Poi abbiamo anche la distribuzione invece del vestiario che è destinato ai nostri assistiti e questo avviene due volte a settimana. E poi infine abbiamo i corsi di italiano che vengono tenuti dalla componente giovanile del nostro comitato. E questo non fa parte della gara di U. Faremo qualche domanda ai rappresentanti della Croce Rossa che sono qua allo stand. Ecco, se si può presentare per favore ai nostri telespettatori. Io sono sorella Montanari e sono un'infermiera volontaria di Croce Rossa, una croce rossina diciamo. Ecco, lei ci potrebbe spiegare brevemente qual è lo scopo di questo stand, cosa rappresenta della Croce Rossa? Questo stand è la postazione sanitaria che ovviamente ci sono i medici e c'è l'infermiera, serve sia nell'eventualità che dovesse qualcuno farsi male. e anche per intrattenere i ragazzi durante le pause faremo vedere come si fa una rianimazione cardiopolmonare e spiegheremo un po' cosa si trova in un'ambulanza, quali sono i sussidi sanitari, eccetera. Bene, quindi è uno stand informativo che dimostra un po' come funziona. Bene, grazie mille del suo tempo signora, presentiamo anche i medici, visto che ci siamo. Gaetano Di Bella, sono un medico e quindi opero come volontà del soccorso. E Michele Di Maria, anche sono un altro medico che lavoriamo anche in questo stand stamattina. Bene, no, grazie per la disponibilità. E detto questo, questa era la gara di EU per la Easy Gone Air Web TV in compagnia di Riccardo Zanett. Saluta la telecamera Riccardo? No, la saluta. Per Easy Gone Air Web TV questo è tutto da Daniele. No, grazie per la visione.